Ciao, fantastiche Eratis, presentatrice del Milano Latin Festival. Come è andata questa conferenza? Penso che sia stata una conferenza stampa giusta, precisa, che ha toccato la comunicazione per arrivare sia al pubblico italiano che al pubblico latinoamericano. Per cui non vediamo l'ora che inizi questo festival. Siete tutti invitati il 6 giugno alla grande inaugurazione con una grande orchestra, ci sono tante novetà, per cui informatevi. Ci sono stati tutti i corpi consulari che ci appoggeranno nel festival, ci sono stati tanti giornalisti che anche contribuiranno alla comunicazione e alla divulgazione di questo festival e siamo molto contenti di questo. Grazie Eratis, ci vedremo sicuramente a brevissimo. Grazie molte.